Ciao ragà, io ero contento, e apro il pacco di Amazon che mi è arrivato alle 9, e l'ho visto aperto, e qualcuno l'ha aperto e mi ha rubato il coso che entra, era l'oro roggio era, era l'oro roggio, me l'hanno rubato e ha aperto, non l'ho aperto io, non c'è qua, mi mandarono solo a scatola, qualcuno... vedete che è aperto, qualcuno, uno scemo, me l'ha rubato, guardate, che c'entra non c'è, mi mandarono, questo alle 9 arriva, che non c'è niente, vedete che non c'è niente, mi rubarono l'oro roggio, mi dò solo a scatola, va bene, vedete, vedete che non c'è, vergogna, vergogna, vergognatevi, vergogna, mamma mia, che vergogna, mi stagione, stagione...